Bentornati amici, bentornati da De Celso in questo video nottour In questo video nottour Cosa c'è? Bisogna salutare di Dici Ciao Ciao raga Ciao Raina No Pippo Dai Pippo Bentornati in questa recensione seratizia Allora la serata è un po' svuotata Un po' strada, posso dire un po' insolita Un po' svuotata Allora ci sono due avvenimenti, anzi tre importanti Prima avvenimenti importanti, il primo è che c'era Dici Che cosa è Dici? Capo Cavregna Dici sai cosa fare, fai il tavolo Vabbè sì, tavolo abbastanza... Fai il tavolo, vuol dire che sei ricco, vuol dire che non pagate, dovevo farti abbonamenti Vabbè lasciamo perdere No allora c'era un calciatore visto che rimanerei in tema Però non diremo chi, non diremo chi anche perché non ha voluto farla forno C'era anche un figlio di un gran calciatore Non ha voluto farla forno perché probabilmente non era molto a regola nello stare in discoteca Diciamo, diamo un indizio Era in cerchi di ragazze secondo me Sì E diamo anche un indizio C'era anche il figlio di Pirlo Vabbè questo Vabbè lui Questo lo tagliamo Però parlate a me Nooo No mi dissocio, mi dissocio Dai che lo devo caricare, io non voglio fare tagli Allora ovviamente mi dissocio da ogni tipo di parola proveniente da bocche altrui diverse dalla mia E no comunque questo calciatore diciamo un attaccante che mi piace molto ecco Diciamo chiudiamola qui Questo è abbastanza facile Beh no non è facile scusa Non difficile capirlo diciamo Eh vabbè dai Se segui veramente l'eccelso lo capisci Vabbè dai Vabbè dai Facciamo fintanini Un attaccante normale Poi un'altra cosa cos'è Assi del peto Allora Praticamente io ho un tic per stapparmi le orecchie Che è questo Ovvero non so se avete presente quando uno si chiude le narici E soffia dentro per Per sturarsi ste cazzo di orecchie Io faccio così C'era dietro un gruppo di ragazze E mi guarda Mi inizia a fare così E mi fa peto Peto E poi mi fa il gesto così Facciamo ma che cazzo dici Cioè adesso uno non si può manco più Liberare le orecchie Sbloccarsele Che quelle iniziano peto Ma poi scusa Che problema ci sarebbe Anche forse Cioè voglio dire Avrebbe dato a Roma Ulteriore a un postaccio Sì Vero? Possibile che scorreggio più in discoteca Che a casa mia Sì no ma è vero E stimolante come posto Ma sai con tutta quella gente Nessuno sa chi sei No no Mi dissocio Mi dissocio Mi dissocio Mi dissocio da questi comportamenti Fuori dall'inquadratura E Invece Ultima cosa Com'è che si chiamava il kebabaro? Horas Il kebabaro Horas Qua dobbiamo fare una Voto? Allora purtroppo non abbiamo fatto il video col kebab Ma eravamo troppo Troppo presi Che video ho fatto da loro? Posso garantire Troppo presi Sì comunque Voto? No Allora Migliore Migliore Per me è migliore Migliore di Torino Migliore di Torino Che babaro Horas Indirizzo? In Piazza Madalana Cristina Sì piazza Madalana Cristina Che cosa dici? E qual'era il Dio? E' l'altro? L'altro è un coglione Mi dissocio Mi dissocio Per tutti Io rego un coglione Secondo Secondo No Allora voto però Per me è 9 e mezzo 9 e mezzo 9 e mezzo 9 e mezzo Ti dico che è il migliore Se la passa al pesto col tolno e 10 Adesso devo andare a Berlino Che c'è il migliore di Europa Vabbè anche perché lì poi ci sono tutti pieno di turchi Sai No Che cazzo fa No Chiaramente mi dissocio di nuovo da questi rumori molesti fuori dallo schermo Che è anche casa loro Allora io direi come Come Assolutamente non vero Assolutamente non vero Comunque come voto direi io un 8 e mezzo pieno 8 e mezzo pieno 8 e mezzo pieno perché non bisogna esagerare Non bisogna esagerare perché Comunque allora la piadina era fatta da loro Ovviamente Ovviamente fatta da loro No comunque la carne No La carne anche alle 4 Non è anche fatta da loro No Va bene Buonanotte a tutti